Sono due distinti i bandi che la Fondazione CR Trieste ha promulgato per contrastare la povertà e la fragilità sociale e il disagio giovanile. Compressivamente verranno stanziati 500.000 euro, 350.000 per il bando contrasto la povertà, 150.000 per il bando contrasto fragilità sociale. Possono partecipare i bandi gli enti del terzo settore che operano nel territorio dell'originaria provincia di Trieste e che intendono realizzare interventi da avviare successivamente alla comunicazione dell'esito del bando e la cui conclusione avvenga entro il 31 dicembre del 2024. Gli interessati potranno candidarsi ad una sola richiesta per ciascuna tipologia di bando. La domanda deve essere redatta sull'apposito modello reperibile al sito www.fondazionecrtrieste.it nella sezione bandi, corredata di tutti i documenti richiesti, controfirmata dal legale rappresentante del soggetto proponente. Potrà essere presentata a mano, a mezzo posta ordinaria o via posta elettronica certificata all'indirizzo info-cert.fondazionecrtrieste.it entro le ore 12 di giovedì 31 agosto 2023. L'esito della selezione sarà comunicato tramite il sito web della fondazione stessa e in forma scritta a ciascuno dei richiedenti.